è tardi, è tardi ormai, sono tre ore che te lo dico qua siamo in due, mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà ma lo capisci? e dai, su, fai uno sforzo